Pinocchio capitolo 17 Pinocchio mangia lo zucchero ma non vuole purgarsi, però quando vede i becchini che vengono a portarlo via, allora si purga. Poi dice una bugia e per gastigo gli cresce il naso. Appena i tre medici furono usciti di camera, la fata si accostò a Pinocchio e dopo averlo toccato sulla fronte, si accorse che era travagliato da un febbrone che non si dire. Allora sciolse una certa polverina bianca in mezzo a un bicchiere d'acqua e porgendolo al burattino gli disse amorosamente Bevila e in pochi giorni sarai guarito. Pinocchio guardò il bicchiere, storse un po' la bocca e poi dimandò con voce di pianisteo È dolce o amara? È amara, ma ti farà bene. Se è amara non la voglio. Dareta a me, bevila. A me l'amaro non mi piace. Bevila e quando l'avrai bevuta ti darò una pallina di zucchero per farti la bocca. Dov'è la pallina di zucchero? Eccola qua, disse la fata tirandola fuori da una zuccheriera d'oro. Prima voglio la pallina di zucchero e poi peverò quella quaccia amara. Me lo prometti? Sì. La fata gli dette la pallina e Pinocchio dopo averla sgranocchiata e ingoiata in un attimo disse leccandosi i baffi. Bella cosa se anche lo zucchero fosse una medicina. Mi purgherei tutti i giorni. Ora mantieni la promessa e bevi queste poche gocce d'acqua che ti renderanno la salute. Pinocchio prese di mala voglia il bicchiere in mano e vi ficcò dentro la punta del naso. Poi se l'accostò alla bocca. Poi tornò a ficcarci la punta del naso e finalmente disse È troppo amara, troppo amara, io non la posso bere. Come fai a dirlo se non l'hai nemmeno assaggiata? Me lo figuro, l'ho sentito dall'odore. Voglio prima un'altra pallina di zucchero. Poi la beverò. Allora l'ha fatta con tutta la pazienza di una buona mamma, gli pose in bocca un altro po' di zucchero e dopo gli presentò da capo il bicchiere. Così non la posso bere, disse il purattino facendomi le smofie. Perché? Perché mi dà noia quel guanciale che ho laggiù, sui piedi. L'ha fatta glielevo il guanciale. È inutile, nemmeno così la posso bere. Cos'altro ti dà noia? Mi dà noia l'uscio di camera che è mezzo aperto. La fatta andò a chiusi l'uscio di camera. Insomma, gridò Pinocchio dando uno scoppio di pianto. Questa acquaccia amara non la voglio bere. No, 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 e no! Ragazzo mio, te ne pentirai. Non me ne importa. La tua malattia è grave. Non me ne importa. La febbre ti porterà in poche ore all'altro mondo. Non me ne importa. Non hai paura della morte? Punto paura piuttosto morire che bevere quella medicina cattiva. A questo punto la porta della camera si spalancò ed entrarono dentro quattro conigli neri come l'inchiostro che portavano sulle spalle una piccola barra da morto. Che cosa volete da me? gridò Pinocchio, arrezzandosi tutto impaurito a sedere sul letto. Siamo venuti a prenderti, rispose il coniglio più grosso. A prendermi? Ma io non sono ancora morto. Ancora no, ma ti restano pochi minuti di vita. Avendo tu ricusato di bevere la medicina che ti avrebbe guarito della febbre. O fatta mia, o fatta mia, cominciò allora a strellare il burattino. Datemi subito quel bicchiere, spicciatevi per carità perché non voglio morire, no, non voglio morire. E preso il bicchiere con tutte e due le mani, lo versò in un fiato. Pazienza, dissero i conigli, per questa volta abbiamo fatto il viaggio a UFO. E tiratosi di nuovo la piccola barra sulle spalle, uscirono di camera bofonchiando e vormorando fra i denti. Fatto stacchi di lì a pochi minuti, Pinocchio salto giù dal letto, bello e guarito. Perché bisogna sapere che i burattini di legno hanno il privilegio di ammalarsi di rado e di guarire prestissimo. E la fata, vedendolo correre e ruzzare per la camera, vispo e allegro come un gallettino di primo canto, gli disse Dunque la mia medicina t'ha fatto bene davvero? Altro che bene! Rimesso al mondo! E allora, come mai ti sei fatto tanto pregare a beverla? Egli è che noi ragazzi siamo tutti così e abbiamo più paura delle medicine che del male. Vergogna! I ragazzi dovrebbero sapere che un buon medicamento preso a tempo può salvarli da una grave malattia e forse anche dalla morte. Oh, a un'altra volta non mi farò tanto pregare. Mi rammenterò di quei conigli neri con la barra sulle spalle e allora piglierò tutto il bicchiere in mano e giù! Ora vieni un po' qui da me e raccontami come andò che ti trovasti fra le mani degli assassini. Gli andò che il burattinaio mangiafuoco mi dette alcune monete d'oro e mi disse Oh, portale al tuo babbo! E io invece per la strada trovai una volpe e un gatto, due persone molto perbene che mi dissero Vuoi che godeste alcune monete di ventino mille e duemila? Vieni con noi che ti condurremo al campo dei miracoli! E io dissi andiamo! E loro dissero fermiamoci qui all'osteria del Gambino Rosso e dopo la mezzanotte ripartiremo. Io quando mi svegliai loro non c'erano più perché erano spariti. Allora io cominciai a camminare di notte che era un buio che pareva impossibile Per cui trovai per la strada due assassini dentro due sacchi di carbone che mi dissero Metti fuori i quattrini e io disse non ce l'ho perché le quattro monete d'oro me le erano nascoste in bocca E uno degli assassini mi provò a mettermi le mani in bocca e io con un morso gli staccai la mano e poi la sputai Ma invece di una mano sputai un zappetto di gatto e gli assassini a corrermi dietro E io corri che ti corro, corri che ti corro finché mi raggiunsero E mi erano per il collo un albero di questo bosco col dire domani torneremo qui Allora sarai morto e con la bocca aperta e così ti porteremo via le monete d'oro che hai nascoste sotto la lingua E ora le quattro monete dove le hai messe? gli domandò la fata Le ho perdute rispose Pinocchio ma disse una bugia perché invece le aveva in tasca Appena detta la bugia il suo naso che era già lungo Mi crebbe subito di due dita di più E dove le hai perdute? Nel bosco, qui vicino A questa seconda bugia il naso seguitò a crescere Se le hai perdute nel bosco vicino, disse la fata Le cercheremo e le ritroveremo perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre Ah, ora che mi rammento bene, replicò il burattino imbrogliandosi Le quattro monete non le ho perdute Ma senza avvedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina Ah, questa terza bugia il naso gli si allungò In modo così straordinario quel povero Pinocchio non poteva più girarsi da nessuna parte Se si voltava di qui batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra Se si voltava di là lo batteva sulle pareti o nella porta di camera Se alzava un po' di più il capo correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata E la fata lo guardava e rideva Perché ridete? Gli domandò il burattino, tutto confuso e impensierito di quel suo naso che cresceva A occhiate Vedo della bugia che mi hai detto Ma come mai sapete che ho detto una bugia? Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito perché ve ne sono di due specie Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo La tua per l'appunto è di quella che hanno il naso lungo Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna Si provò a fuggire di camera Ma non gli riuscì Il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta